dottoressa buongiorno buongiorno a lei ecco io la ringrazio per essere intervenuta così tempestivamente e che ho un po di mi vergogno un po a parlarne stia tranquilla signorina si accomodi e sto seduta beh si metta comoda ah il nuovo cuscino ha mostro proprio comoda ma prego mi dica cos'è che l'ha spinta a contattarmi allora beh diciamo che ultimamente io parlo da sola capisco ma mi dica di più scendiamo un po più nei particolari approfondisca prego parli cioè vabbè non è proprio che parlo da sola è più che come se parlassi con un'altra persona e da quanto tempo le succede mi dica da quanto da quando è cominciato tutta sta storia che tocca sta chiusi dentro casa perché se esci dei contagi io vivo da sola e cioè so proprio sola e quindi niente ogni tanto insomma mi crea qualche personaggio ci parlo così beh quindi è un fenomeno relativamente recente mi fa capire legato a questo periodo di isolamento di quarantena esatto è ha capito solo che praticamente cioè io mi travesto no cioè metto le parrucche e cioè faccio tipo delle scenette con queste persone però io ci credo veramente e adesso cioè ho avuto un momento che mi sono detta ma ma è vero e non è è vero sta tutto in testa mia stanno succedendo delle cose strane io non mi sono mai comportata così è la prima volta sono un po preoccupata cioè adesso che c'è un po di lucidità in questo momento dico ma forse non sto bene beh siamo chiaramente di fronte a un fenomeno di sdoppiamento della personalità riconducibile userei dire a la sindrome bipolare sì bipolare sdoppiamento ma di che cioè sono tanti questi personaggi cioè non è che uno capito ma allora sarebbe bipolare sono due no bipoli di due cioè sono tanti sono multipolare cioè sono proprio tanti capito poi c'è un testa pure altri no che c'ho altre parrucche prima o poi li farò ma appena c'ho un attimo e quindi dottoressa ma devo preoccupare beh signorina stiamo tutti attraversando un periodo difficile in questi giorni in questi giorni così di isolamento in queste quarantene e lei non si immagina nemmeno quanti pazienti si stanno rivolgendo a me proprio con degli atteggiamenti simili al suo è cosa molto comune in questi giorni è molto comune non se ne faccia una malattia non se ne faccia una malattia tra l'altro io noto un certo atteggiamento positivo però in queste sue scenette questi personaggi che lei vede con cui parla che frequenta magari ci si va anche a prendere un aperitivo no? beh secondo me questo è quasi uno stratagemma inconscio per colmare queste mancanze che le si sono venute a creare così all'improvviso così repentinamente senza quasi rendercene conto siamo piombati in questa realtà quasi parallela diversa da quella che noi vivevamo ogni giorno e quindi io credo che su questa sua positività però ci si debba e ci si possa lavorare ah ma quindi sto bene beh è presto per dirlo ma mi parli del rapporto con sua madre sì mi madre pure lei ho fatto ho fatto pure mi madre cioè praticamente lei stava in cucina che girava il sugo e io stavo usci per fare la spesa visto che stavo usci solo per fare la spesa con i guanti e la mascherina una cosetta simpatica così e ho fatto pure mi madre pure mi nonna ho fatto pure nonna nonna non c'è più da un po' però ho fatto pure lei era come se cioè è stato bellissimo perché come se nonna fosse viva capito cioè è bello ho parlato con nonna dopo la sono andata pure a trovare caruccia nonna comunque proprio caruccia mi parli del rapporto con sua nonna che ti dico del rapporto scusi che le dico del rapporto con nonna cioè nonna ormai non c'è più da tanto cioè c'è un bel rapporto con nonna ma pure con mia madre pure con mia madre e niente poi lo sai pure che ho fatto ho fatto pure cioè mi sono immaginata la nostra persona con cui io stavo insieme marito, compagno, convivente insomma fidanzato mangiavamo insieme pranzavamo insieme bello che ho fatto le lasagne buone e poi ma lui mi piace un sacco perché poi cioè è una persona proprio cioè tranquillo non ti rompe ti dice devi fa questo devi fa quello questo non ti fa cioè no lui fa quello che gli dico io ho svoltato con questo cioè proprio l'uomo della vita mia beh signorina alla luce dei fatti da quanto lei mi racconta ritengo alquanto improbabile che io possa continuare a seguirla e anzi le consiglio un aiuto più probabilmente più efficace di quanto potrei aiutarla io e quindi penserei di passare il suo caso alla mia collega alla dottoressa Cerebrini dottoressa in psichiatria ma sia tranquilla sia tranquilla perché la dottoressa è qui presente ci vorrà solamente un momento se lei attende comunque in linea io gliela chiamo subito e verrà lei ad aiutarla addirittura e vabbè vabbè allora aspetto aspetto qua oh ciao ma guarda chi ci sta come stai ah vedete trovo bene eh allora tutto a posto pure di qua no sto a parlare con la psicologa ma mi passa la psichiatra dice che non sto cioè prima aveva detto che non c'era qualche speranza non pare che addirittura la psichiatra però vabbè te invece tutto a posto ah stai a a fare una passeggiata attento vabbè ce l'ha la tua certificazione che se te beccano ah eh sei affattività motoria eh io pure la dovrei fare così che so pigra a me va vabbè oh eccola eccola ciao signorina buongiorno la mia collega mi ha parlato del suo caso io riterei opportuno prescrivere dei medicinali buongiorno ma te sei quella di prima ti ho riconosciuto che sei messa la parrucca pure te cioè ma pure te però stai un po' fuori eh cioè sei quella di prima te è che io non ce la faccio più non ce la faccio più io voglio vedere qualcuno sto sempre chiusa qua dentro sto sempre chiusa qua non ce la faccio più non ce la faccio più ma mi pare del rapporto con sua madre